Simone, intanto un commento su questa partita. Ma è stata una partita bella, maschia. Avevamo partiti abbastanza bene, poi dopo due minuti si è preso Go. È stata una partita in salita, però ben gestita e combattuta dalla nostra squadra. E poi finendo è andata benissimo 2-2 perché abbiamo avuto occasione sia noi che loro. È una partita tosta. Comunque la squadra ha avuto il merito, poi dal resto gioca contro la capolista di ribaltare anche le risultate. Sì, sì, ci abbiamo creduto fino a un fondo. Ci è mancato un pizzico di fortuna sull'ultima azione che hanno fatto 2-2, però va benissimo così. Adesso per questo finale, quali sono le attese? Noi giochiamo sabato per sabato senza grosse pretese, dando sempre il massimo e tirando fuori sempre il massimo dai ragazzi. Sì, poi quello che verrà tutto è guadagnato. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Grazie.